A tutt'oggi noi sappiamo che l'autotrapianto, dopo la terapia che sicuramente ha fatto precedentemente, dopo la terapia mobilizzante, è il miglior trattamento che abbiamo a disposizione. In effetti fare l'autotrapianto non le risolverà i suoi problemi, perché sappiamo che quasi sicuramente dopo un certo periodo di tempo la malattia ritornerà. Però sicuramente allungherà il periodo di tempo in cui la malattia non ricomparirà. Certo l'autotrapianto non è una passeggiata, sicuramente glielo avranno già detto. Fare 200 mg a metro quadro di Melfalan con tutto quello che ne consegue, quel periodo di aplasia completa che la costringe in una camera, chiamiamola protetta, non dico sterile perché è un termine obsoleto che non mi piace perché in linea di massima sterile non sono. Però è sicuramente una camera protetta, in certi reparti le hanno sempre fatte in corsia normale, gli autotrapianti non avevano bisogno di un posto limitato. Però con i dati che abbiamo oggi, indipendentemente dall'efficacia dei nuovi farmaci di cui vedremo i dati a più lunga scadenza di quello che abbiamo a disposizione, è il miglior trattamento possibile che le sia stato proposto. Se non dovesse essere sufficiente uno, c'è ancora il discorso che se ne possono fare anche due. Ci sono comunque degli studi in corso, signora, ancora la risposta non è chiarissima, se serva sempre in ogni caso l'autotrapianto, uno studio che si sta portando avanti in questo momento proprio anche nelle nostre ematologie, sta cercando di confrontare proprio l'utilizzo del trapianto oppure una terapia invece che prosegue esclusivamente dal punto di vista farmacologico. I risultati però li vedremo più avanti perché ancora non sono maturi per poter dare delle informazioni precise. La cosa importante in ogni caso è avere raccolto le cellule per poter fare l'autotrapianto perché se lei dovesse decidere adesso per qualunque motivo di non volerlo fare o di rinviarlo, avere raccolto le cellule è una sorta di garanzia per un'eventuale ricomparsa di malattia oppure c'erano gli americani, per particolare la Mayo Clinic, che però a seconda, torniamo alla terapia individualizzata, a seconda del rischio delle eventuali comorbidità presenti, si raccoglievano le cellule e si riservava per esempio l'autotrapianto in una fase successiva in malattia, però qui si entra proprio nell'individualizzare la terapia, come hanno detto i colleghi, la terapia di prima scelta è quella di fare l'autotrapianto dopo un affare di induzione che generalmente è di quattro cicli. L'importante è raccogliere le cellule e mettere da parte se si riesce a raccoglierle.